OI! Stop whining! I'm back! Il suo basso guadagno di forza lo rende meno resistente degli altri eroi, ma diventa sostanzialmente più durevole quando si ottene la sua abilità passiva, che in italiano è la schiena cumminata, che riduce il danno se viene preso dietro o dai fianchi, proprio dovete vedere il modello dell'eroe. Nelle mani giuste, Breast of the Black è un potente ganker delle prime fasi del gioco, mentre invece nelle fasi successive diventa un semi-carry, a seconda di quanto riesca a farmare. Come note sull'abilità, diciamo che è l'unica da menzionare che il danno del getto di Akulei non è ridotto da oggetti che bloccano i danni, come Avanguardia e Scudo Intrepido. Quindi, con questo cosa significa? Che anche all'inizio della partita, quando siete in lane, diciamo, e anche se avete contro eroi che si comprano appunto lo scudo intrepido, non so, un Baratrum, e con il vostro oggetto di Akulei potete comunque fargli dei danni, che non sono ridotti, insomma, dallo scudo. Consigli. Usa la tua abilità passiva schiena cumminata a tuo vantaggio. Cerca di anticipare gli attacchi nemici e voltagli le spalle in modo da poter ridurre più danni possibili. Un punto abilità preso all'inizio della partita sulla passiva schiena cumminata, durante la fase in cui siete ancora in lane, vi aiuterà se avete problemi contro nemici che vanno di auto attack. Anche se i nemici possono facilmente difendersi contro di voi con una bacchetta magica, perché è questo? Perché avete un eroe che continua a usare abilità, no? Spam, e quindi la bacchetta intanto va su di cariche. Comunque potrete arreccare di grandi danni con la vostra ultimate sentiero di guerra, perché finché spammerete quell'abilità, il danno bonus farà il suo lavoro. Muco nasale viscido è un rallentamento estremamente utile, a condizione che continuate a lanciarlo sul bersaglio. Potrete facilmente tenerlo rallentato mentre usate il vostro oggetto di aculei per abbattere il vostro nemico. Ricordate di aggiornare continuamente il muco nasale viscido, dato che il suo cooldown è solo di un secondo e mezzo. Muco nasale viscido è estremamente potente, assieme alla prima abilità del warlock, che permette di condividere parte del danno in arrivo su più bersagli. Perché questo? Perché il muco nasale viscido riduce l'armatura dell'eroe che è stato attaccando. Quindi voi causerete più danni a quest'eroe. Questi danni vengono suddivisi tra gli altri bersagli che sono collegati dalla prima abilità del warlock e quindi farete ancora più danni. Nelle fasi più avanzate, questa combinazione di bristle e warlock è devastante anche a late game. Se le combinate con altri oggetti, si possono causare grandi danni in poco tempo. La riserva di mana di bristle potrebbe lasciarvi senza mana, dato che le sue abilità, anche se costano poco mana, sono da usare in continuazione. Una maschera del saggio o un anello di basilius possono rimediare facilmente a questo problema. Uno dei principali punti di debolezza di bristle è la sua mancanza di disabilitazioni. Che significa? Che non si può silenziare o interrompere un nemico che sta lanciando incantesimi o abilità canalizzate. Cercate in queste situazioni di fare affidamento sui vostri compagni di squadra. In alternativa, una falce device vi darà un'ottima rigenerazione del mana e un'entevastante disabilitazione, ovvero l'ex. L'ex viene utilizzato anche in World of Warcraft, che sarebbe quando trasformate un eroe nemico, in questo caso viene trasformato con la falce in un maiale, e quindi non può usare le abilità e inoltre potete anche attaccarlo. Solitamente viene utilizzato sul carry avversario, in modo che non possa causare danni, magari se è un carry che va di auto-attack. Alcuni, visto la velocità di movimento di bristle, potenziato dal suo sentiero di guerra, optano per uno spacca crani, che dovrebbe permettervi di bloccare e interrompere la maggior parte dell'abilità. Se state scappando da degli avversari, non dimenticatevi di continuare ad usare il vostro oggetto di aculei, dato che vi garantisce anche della velocità di movimento bonus. Potrete anche sfruttare questo a vostro vantaggio. In combinazione con la vostra resistenza, potrete anche fare da esca per dei contro-gank. Ricordate in questo caso di comprare oggetti di resistenza, come il capuccio del disprezio, avanguardia o cotta di lame. Oggetti Dunque, inizio partita, uno scudo intrepido e obbligatorio, dato che vi permetterà di resistere finché non avrete la vostra passiva schiena combinata. Poi, tango, una chiarezza e una posizione di ristoro dovrebbe bastarvi. Potete anche prendere la bacchetta se... Se diciamo, ci avrete, diciamo, l'abitudine. Oggetti iniziali Gli stivali sono fondamentali per farvi arrivare a colpire i vostri bersagli per i gank. Prendetele appena possibile. L'anello di Basilius è fondamentale per garantirvi una buona rigenerazione del mana, in modo da poter spammare le vostre abilità. La bacchetta può tornarvi utile, sia per il mana, sia per i punti salute. Un anello della rigenerazione è ottimo per Blizzle. Come tutti gli oggetti tank, vi permetterà di recuperare vita più facilmente e potrete utilizzarlo per creare un'avanguardia o un capuccio del disprezzo. Come oggetti fondamentali, gli stivali della potenza, che vorrei ricordare che se avete difficoltà magari di mana, se siete a corto di mana, e non vi basta l'anello di Basilio, potete comunque cambiare l'attributo e metterlo su intelligenza per recuperare più facilmente il mana. Poi, un'avanguardia è ottima, dato che vi permette di bloccare i danni. che unite la vostra passiva, vi rende veramente difficili da essere uccisi. In alternativa, potete anche fare un capuccio del disprezzo. Oggetti situazionali. La quota di lama è perfetta come ogni oggetto di difesa e resistenza. Con questa, scoraggerete i vostri avversari ad attaccarvi, permettendovi di causare molti danni. Se possedete uno splendore, potete rigenerarvi se avete un cuore di terrasque. Questo perché, la quota di lama riflette appunto i danni. E ovviamente gli avversari, vedendovi con quella, non vi attaccheranno. Ma il tempo che guadagnate, in questo modo potete, diciamo, sfruttarlo al meglio in combinazione con uno splendore, che fa danni al secondo, o un cuore di terrasque, che vi permette di recuperare vita. L'alabarda del cielo è un ottimo compromesso tra attacco e difesa. La possibilità di eludere i danni vi permetterà di essere ancora più tank e di poter schivare gli attacchi di auto-attack. E inoltre potrete disarmare un eroe avversario, magari un carry, in modo da dare anche un ottimo contributo al vostro team, nelle teamfights. La corazza d'assalto è perfetta sia per farvi resistere di più, sia per rendere i nemici più vulnerabili. La pipa dell'intuizione è perfetta se avete contro i roi come Lina o Zeus, che possono recarvi ingenti danni a voi e al vostro team. Ricordate che anche il caputo del disprezzo vi permetterà di essere più resistenti alle abilità magiche dei avversari. Shiva's Guard vi permetterà di rallentare il team nemico, permettendovi di colpire i più nemici con il vostro oggetto di aculei, ma prevalentemente viene usata per il suo rallentamento e il danno. Il cuore di Terrasque è perfetto per rendervi ancora più resistenti. Inoltre, in situazioni di nemici che vi inseguono, dovreste recuperare facilmente la vostra vita, senza dover quasi più dover tornare alla fontana. Ricordate che vi fornirà anche forza in più e che arricchirete più danno. Lo spacca crani, in mancanza della possibilità di bloccare il nemico, viene usato per bloccare i nemici, ma in presenza di eroi nemici disabilitanti potreste non riuscire a sfruttare appieno questo oggetto. Per questo, per una costruzione di questo eroe, Carrie, viene subito supportato da un bastone del re nero. Build All'inizio, il getto di aculia è perfetto sia per mettere in difficoltà i nemici, sia per prepararlo per le faglie successive. Come seconda abilità, il muco nasale viscido è perfetto per iniziare a gankare in lane. Non stupitevi se non riuscite subito a gankare, avrete bisogno degli stivali per poter essere più efficaci. In alternativa al muco nasale viscido, potete prendere la passiva schiena cumminata, se i vostri avversari sono a distanza e vi mettono in difficoltà. Ricordate che la vostra passiva schiena cumminata rilascia, dopo aver subito un certo numero di danni, un getto di aculei del livello attuale. Il sottolineo del livello attuale. Ecco perché maxare, ovvero mettere prima i punti abilità nel getto di aculi, rimane una delle cose migliori. Di solito si arriva ad avere al livello 6, un punto in muco nasale, un punto in schiena cumminata, un punto nella ultimate ovviamente, e restanti punti in getto di aculei. Ora passiamo alla sezione dei counter pick. Dunque, Bristleback in lane, è debole contro Axe, Warlock ed Alchemist, mentre invece risulta forte contro Riki, la Broadmother e un Dying. Curiosità. In Dota, il Bristle, era un Quilbor, unità molto simile a un Maiale, ma in Dota 2 no. Questo è dovuto a problemi con l'universo di World of Warcraft, dove la razza Quilbor era presente. Bene, tirando le conclusioni, il Bristle è un eroe che, diciamo che, bisogna anche imparare ad essere pratici, nel sapere dove prendere i danni, perché solamente il fatto della vostra posizione, è importante per i danni che prenderete, quindi, anche se vi bloccano, o siete nelle team fight, cercare di dare le spalle ai nemici, vi farà veramente ridurre di molti danni. Per il resto, è un eroe sicuramente tank, che si base tutto sul resistenza, e con il soggetto di Aquile, non fa grandi danni, ovviamente per le fasi finali, ma già con una splendore, cambiano di molto, le sue possibilità di eliminare i nemici. per il resto, sicuramente è un eroe di tipo tank, ovvero di resistenza, e anche costruirlo in questo verso, nel senso di costruirlo in modo che resiste, facilita di molto il vostro team. Io spero che questa guida vi sia stata utile, io vi lascio, e ci becchiamo alla prossima guida. Grazie. Grazie. Grazie.